Grazie a Glauco ho scoperto la grande altezza della poesia shakespeariana e la grande umanità del personaggio di Liar, nel senso che veramente in lettura sembra un testo irrappresentabile. Poi ti rendi conto che nel momento in cui Glauco si mette nei panni di quei dolori, di quelle frustrazioni, di quelle dinamiche interiori, capisci veramente la profondità di quel personaggio. Io ho capito di quanto è grande Shakespeare, fondamentalmente grazie all'interpretazione di Glauco Mauri. La cosa bella che succede lavorando con Andrea è che non si racconta mai il personaggio, lo si parla. E a volte lo stesso suono dei versi ciespiriani induce ad una specie di racconto del personaggio. Invece questa volta io credo che posso andare più a fondo. La cosa più bella è pensare che devono essere mai arrivate. E questo è il pensiero che mi spinge a fare, detti di grande coraggio come questi di fare 89 anni per la terza volta in Reliero.